Con Luca Mazzella qui dall'osservatorio di Ischia Ponte per cercare di capire come sta andando questa estate tra il caldo, i turisti. Ma con molta sorpresa diciamo, ho notato che quest'anno ci sono molti stranieri rispetto all'anno scorso e agli anni precedenti. Molti francesi, scozzesi, irlandesi, inglesi, di meno i tedeschi almeno qua nel borgo. Comunque devo dire che loro rimangono sempre molto affascinati dalle bellezze del centro storico. Commercialmente diciamo un po' a rilento, devo dire un po' a rilento, è una lamentela un po' generale, almeno per quanto riguarda il terziario. Ecco, bisogna aspettare, bisogna vedere un po' per Ferragosto come matura la situazione perché poi è il periodo di massima concentrazione di turisti nell'isola e nel borgo. Quindi siamo tutti fiduciosi appunto per Ferragosto e dintorni. Sperando sempre in un ottimo settembre perché poi settembre ecco ci riporta di nuovo tanti stranieri qui al borgo. Anche perché il mese di settembre e il mese di ottobre da 4-5 anni a questa parte stanno dando veramente tanto al tessuto economico dell'isola d'Ischia. Sì, infatti diciamo ecco settembre è stato sempre il mese preferito dagli stranieri. Quindi il clima è mite, diciamo c'è pure maggiore tranquillità e poi anche la grande pubblicità che viene fatta per l'isola. Ecco tutti questi sono punti a favore per la presenza appunto di questo genere di turisti. Per quello che riguarda il turismo in particolare nel borgo, la vita del borgo, anche le attività come Borgo in Festa, la scelta da parte anche di tanti locali, ristoranti, di offrire un servizio anche di intrattenimento musicale, può servire a riempire un po' quel gap della serata e diciamo andiamo a Ischia Ponte, che c'è? Ma sicuramente ogni iniziativa, ogni cosa che si fa ovviamente con diciamo chi è d'accordo o meno per quanto mi riguarda ecco è importante creare qualcosa perché giustamente il turista vuole divertirsi, vuole ecco essere, vuole degli intrattenimenti. Per cui ecco tutte le iniziative diciamo sono lodevoli perché comunque impegnano a tutti i commercianti in un piccolo sacrificio però devo dire che poi alla fine ecco l'afflusso c'è al borgo e certamente bisognerebbe accontentare poi ecco bisognerebbe puntare diciamo anche in vari tipi di spettacoli però già quello che si fa è tanto. Grazie. 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 Grazie.